Let's go bitches, this is power! Tralasciando questa intro scherzosa, vi invito ad andare sul canale di Knockout Community per chi non lo conoscesse, è un canale che hanno creato Velox di InsideCode, Cree di InsideCode Troppo Giallo, T-Black Game, SaviUltras e anche io ne faccio parte e anche Karma in questo qui è un canale, una community in cui raccogliamo i video dei giocatori di COD italiani questo video, diciamo, non voglio cercare di sponsorizzare, questo qui è solo uno shoutout poi parlerò del vero punto centrale di questo video comunque, Knockout Community è un sito dove vengono postate le migliori clip, le migliori partite, commentari eccetera eccetera fatte da giocatori italiani su Call of Duty vi invito a passare quindi sul canale e vederlo perché potrete anche voi postare i vostri video che verranno selezionati poi dallo staff troverete tutte le info quindi sul canale, non c'è bisogno che ve lo dico io, lo trovate in descrizione bla 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 parliamo ora del punto principale di questo video Call of Duty Ghost cosa cazzo sta succedendo? allora, praticamente ci ho pensato in questi giorni e veramente, questo gioco fa letteralmente schifo ma non sono l'unico a dirlo esiste una parte dei giocatori che dice è bello ma dice bello perché ha speso i soldi per il gioco e perché ha dietro l'activision sulle spalle quindi non può dire che il gioco è brutto, è stato fatto male o cose simili è costretta, magari si oppone fermamente a questa cosa per cercare di nasconderlo ma è così questo gioco non piace a molti perché non piace a molti? cioè analizziamo quello che succede allora, utilizziamo quegli mezzi grafici che possiede power fortissimi e sgravatissimi tipo paint in cui vi mostrerò quello che sta succedendo su Code Ghost praticamente cos'è successo? se noi guardiamo un video di Black Ops 2 e lo confrontiamo con Call of Duty Ghost ma pure se prendiamo un video di MV3 noteremo che la differenza di un Call of Duty Ghost dagli altri capitoli di God è praticamente netta ma questo perché? perché il gioco è stato fatto dall'Infinity World ma quelli che ora compongono l'Infinity World non sono più le persone che hanno lavorato ai progetti di Call of Duty dal 4 in poi sono solo una piccola parte molti di quelli sono stati licenziati o se ne sono andati e hanno fondato una nuova casa che è la Respawn Studio che tra lato sta progettando Titanfall ops, pubblicità occulta vabbè, comunque oltre a questo basterà guardare un video di un altro code per notare che le differenze che ci sono da un gioco all'altro sono nette, sono enormi e praticamente questo gioco sembra un capitolo che non fa parte della serie Call of Duty come potete notare una delle cose che a me veramente mi ha fatto incazzare è spostare il feed perché spostare il feed delle kill da in basso a sinistra e in alto a destra? spiegatemi il senso cioè, ora posso capire che si vuole tenere uno spazio in basso a sinistra cioè, è una cosa fortunatamente senza senso Call of Duty, dal primo Call of Duty su PC che magari voi non ricorderete ma vedrò di farvi vedere un video possedeva il feed in basso a sinistra ogni Call of Duty l'ha avuto perché ora spostarlo in basso a destra dopo che i giocatori sono stati abituati per anni ad averlo là? questa è una delle tante innovazioni di Code Ghost a me sembra tanto una scopiazzata di Battlefield a cui sto giocando ora che ha il feed in alto a destra nonostante questo non solo il feed in alto a destra è uno dei problemi principali di questo gioco ma anche, diciamo, l'implemento della dinamicità delle mappe cosa vuol dire dinamicità delle mappe? vuol dire che noi possiamo modificare la mappa o si modifica autonomamente la mappa ma, se voi ci pensate guardate Code Ghost allora, cosa si può modificare? c'è un ascensore che se lo fate esplodere casca e casca nel vuoto wow ci sono delle parti di mappa che esplodono ci sta una mappa che cambia totalmente con la bomba atomica l'unica cosa dinamica che ho visto finora perché per il resto di cose dinamiche il mortaio che arriva sulla casa e lo fa esplodere non mi sembra niente di che sinceramente che è tutto automatico poi non è niente fatto dal giocatore mi sembra un'altra copiata di Battlefield una cosa che ha caratterizzato gli ultimi Battlefield che sono usciti era proprio la distruttibilità la distruzione ambientale che si poteva fare e questa cosa della distruzione ambientale su Ghost è stata praticamente copiata da questa casa che è ora all'Infinity World e questa casa che è ora all'Infinity World ci fa parte gente che ha fatto giochi come Rock Band come Tony Hawk cioè ha fatto veramente dei giochi che non c'entrano niente con gli FPS e cosa hanno fatto? hanno preso quelle parti che erano belle dei alcuni FPS che non c'entrano niente con la saga Call of Duty e le hanno riutilizzate tra l'altro in malo modo è stata ridotta tra l'altro la vita per cercare di rendere il gioco realistico ma ora prendiamo per esempio COD COD non è un gioco realistico quando voi andate a comprare COD voi non comprate un simulatore di guerra come pure lo è Battlefield Battlefield chi dice che è realistico dice stronzate perché non ha la più palida idea di cosa vuol dire un gioco realistico se volete giocare a un gioco realistico esiste Arma 2 esiste Operation Flashpoint esistono un sacco di giochi e sono veramente simulatori dove non si muore nemmeno lì con un colpo come si muore in veterano perché su Battlefield se guardate il mio ultimo video si muore con mezzo caricatore io non ho mai ucciso su Battlefield una persona anzi non ho mai fatto una tripla con lo stesso caricatore cioè l'ho fatta se erano feriti ma se no non si può fare quindi gli è stata diminuita la vita per dargli un senso di realisticità che poi non c'è in COD ma come non c'è in Battlefield sono degli sparatutto sono fatti per divertirsi magari uno può essere più realistico rispetto all'altro ma non cercano di rappresentare la realtà sono giochi inalti per divertire non per simulare sono giochi per run and gun corri e spara quindi il fatto è che COD è diventato praticamente una commercialata oranzi io penso che molti di quelli che hanno comprato Ghost e si sono resi conto di quanto faccia schifo penso abbiano pensato quello che sto pensando io ora che praticamente COD ha fatto una commercialata cioè praticamente non ha pensato a rinnovare il gioco a mettere nuove features a magari fare una parte competitive perché era quello che stava accadendo su Black Ops 2 Black Ops 2 stava nascendo come un gioco cioè è nato come un gioco competitivo e ha penso animato in molti la competizione come per esempio fare Lega che tra l'altro è stata tolta che era una delle grandi innovazioni di Black Ops 2 che ha portato molta più gente a giocare COD non per fare pubblica perché la pubblica è sempre la stessa tu come puoi giocare a un gioco un intero anno facendo solo pubblica dove lo trovi il divertimento a fare ogni giorno pubblica quando invece fai conto se sei un appassionato di COD come lo sono io quando invece hai anche Lega che lo puoi fare con gli amici lo fai per arrivare primo per cercare di avere il team al primo posto avere solamente l'icona di essere al primo diciamo al grado maestro 1 e così via cioè c'era una sfida là tra l'altro pure il fatto di giocarci con il team o no che è una cosa minima pensateci perché lì è una sorta di matchmaking alla fine con regole competitive per esempio mentre invece su COD Ghost è stato messo guerra tra clan dove si possono usare IMS e IED le peggio schifezze senza un minimo di ban praticamente quello che è stato fatto con Ghost è stato fatto una commercialata fatta solo per vendere che penso che anche si è avvenuto tanto molti non seguiranno più l'Activision ma questo perché? perché dopo questo fail che ha fatto perché penso che il fatto di non dare agli utenti quello che volevano abbia un po' incrinato i rapporti che avevano con il loro fanbase come sapete l'Activision è la casa distributrice che ha il più grande fanbase per quanto riguarda i videogiochi non esiste nessuna casa nemmeno la Blizzard che ora fa parte di Activision ovviamente che ha lo stesso fanbase che ha Call of Duty quindi penso che dopo questa rottura sta succedendo quello che è un po' successo con Prevolution Soccer io non sto facendo il figo che devo dire comprate FIFA buttate via PES e roba varia ma io ero un appassionato di PES e PES sappiamo tutti che dalla Playstation 1 era uno quando si chiamava Winning Eleven mi sembra era uno dei migliori giochi di calcio simulatori di calcio da PES 2008 in poi le cose sono cambiate io pure ho preso FIFA e mi sono ritrovato un gioco che mi piaceva molto di più fatto meglio e tutto si è spostato su FIFA e penso che è quello che sta accadendo ora a COD cosa sta succedendo quello che è successo con PES 2008 c'è stato quel boom di vendite di PES 2008 che poi è sfociato in un rivendi per comprare FIFA o rivendi per cercare un altro gioco però il momento è che ora bisogna trovare il gioco a cui poter giocare non esiste ancora non c'è un gioco a cui possiamo giocare attualmente su COD GHOST cioè non su COD GHOST scusate non c'è un gioco a cui possiamo giocare un FPS definitivo perché per ora Battlefield non ha nemmeno la possibilità di fare server privati quindi sarebbe sempre un giocare pubblico ritreta ritreta in 5 tra l'altro perché non c'è neanche ancora la possibilità di fare gruppo non solo di fare server privati ma penso la implementeranno quindi penso quello che sta accadendo alla community che gioca gli FPS su console è quello della ricerca di un nuovo FPS se Battlefield avrà i giusti update potrà diventare penso il nuovo FPS di punta delle console se non ci riuscisse ci saranno altri giochi che usciranno in futuro ovviamente quindi bisogna aspettare quelli o magari il prossimo COD forse per un ritorno ma non penso perché ci sono voci di corridoio che dicono che il prossimo Call of Duty non sarà fatto dalla Treyarch che come sapete tutti avete odiato ma ci avete giocato e vi è piaciuto ugualmente penso Black Ops 2 verrà fatto forse dalla Sledgehammer quindi le notizie non sono sicure non lo so nemmeno io però cercherò di darvi nuove news buone news anzi spero buone nuove se riesco cercherò di partecipare a discorsi riguardanti i COD così in modo da estrapolare qualcosa dall'Activision se riesco comunque spero che il prossimo gioco venga venga almeno fatto dalla Treyarch almeno per cercare di far ripartire il competitive che sta praticamente morendo ma in tutto il mondo cioè ok ci sono le competizioni e tutto il resto ma questo gioco ve lo dico io da giocatore competitivo finirà a marzo con la fine del COD World Championship 2 non andrà avanti assolutamente molti giocatori lasceranno molti giocatori stanno giocando solo per questo motivo a COD quando vorrebbero giocare altro o fermarsi di giocare per aspettare il nuovo gioco a cui poter buttarsi competitivamente quindi non sono qua per fare propaganda di nessun gioco non sono qua per criticare chi gioca a veterano o chi gioca ad altri giochi non sono qua per fare pubblicità su altri giochi vi ho espresso solo la mia opinione di un giocatore che è stanco di quello che sta succedendo a COD è stufo di come l'Activision e l'Infinity World si comporta verso i propri diciamo acquirenti quelli che diciamo i fan che hanno sempre preso la saga di COD quindi spero che condividiate il mio pensiero se no pace non mi ammazzerò mica spero non insultiate o almeno motivate se siete se vi opponete al mio pensiero quindi bella bitches fine del video bla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti